E come di consueto è giunto il momento delle buone pratiche fra Italo oggi. Chi abbiamo oggi? Oggi siamo, oggi giochiamo quasi in casa perché è una bellissima testimonianza di un'esperienza che nasce alle pendici del Gargano. Non per niente il progetto si chiama Solco Garganico, già il nome è tutto un programma, ce ne parla Salvatore Curatolo, co-founder con Leonardo Petruccelli di questo bellissimo progetto. Buongiorno Salvatore, ben trovato. Ciao Salvatore, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, raccontaci che cos'è, come nasce, che cosa si propone di fare questo bellissimo progetto con questo nome così bello. Allora, Solco è un riassunto un po' del desiderio che avevamo con Leonardo di creare una comunità. Quindi è stata poi descritta in maniera molto semplice come un sogno, quattro mani, cento semi, mille storie. Il nostro sogno qual era? Quello di unire le nostre forze e creare una comunità che partesse dalla terra. Naturalmente le quattro mani rappresentano la nostra artigianalità, quindi in questo sogno ci sono due realtà, due aziende agricole, Leonardo con si detta di brancia e io con terra di Giano, dove abbiamo messo in comunione i nostri terreni. Le quattro mani sono naturalmente la nostra professionalità artigiana, quindi Leonardo come mugnaio, io come panificatore e i cento semi sono tutti i terreni nostri e non di quelli che ci sono attorno. E le mille storie sono le persone che incontriamo, incontreremo e condividiamo lo spirito di un'agricoltura sana, promuovendo naturalmente un cibo etico e soprattutto una terra sociale, dove ogni persona deve essere riconosciuta come tale senza etichettature. Quindi in breve è un po' quello che viviamo e stiamo cercando di proporre in questo territorio. Perché ne parliamo alla regola della sostenibilità? Perché l'agricoltura che tu prospetti è un'agricoltura sostenibile, fuori dallo stress, direi, dei grandi numeri, delle grandi catene di distribuzione del cibo spazzatura. Assolutamente. Infatti abbiamo deciso di proporre questa tipologia, partendo dal pane, che poi è la base del nostro bacino del Mediterraneo. I nostri terreni fortunatamente vengono curati, ci siamo presi cura rispettando i loro cicli. Quindi sono terreni in biologico dove rispettiamo la ciclicità e dove produciamo principalmente grani antichi. Leo vanta di una produzione di diverse varietà, dal senatore Cappelli alla Saragolla come semole, al frassinetto, autonomia B, risciola, bianchetta come grani teneri antichi. Mentre qui a Cagnano, per esempio, io produco solo farro di cocco. Naturalmente sono grani che hanno una resa abbastanza ridotta, paragonandoli ai grani moderni. Però fortunatamente riusciamo a garantire un quantitativo tale da sfamare una piccola popolazione. Molto bene, molto bene, Salvatore. Bello, bello il vostro progetto. Fred, non gli vogliamo chiedere qualcosa? Sì, hai parlato di comunità, che è una parola che mi è piaciuta tantissimo. Per creare questa comunità, magari, non lo so, c'è qualche evento che voi preparate, organizzate, in modo anche da poter rendervi raggiungibili anche dagli altri? Assolutamente. Noi abbiamo iniziato con dei microeventi presso la massettia detta di Brancia, vicino alla stazione di San Marcellamis. Questi eventi dove siamo partiti dalla terra. Un primo evento si chiama Matriticum, che abbiamo portato la gente nei campi. È toccato con mano davvero cos'è l'agricoltura biologica, quali sono i grani antichi, cosa sono i sovesci. Quindi abbiamo fatto una passeggiata all'interno dei campi e poi abbiamo condiviso il momento del cibo, naturalmente, nutrendoci di quello che la terra in quel periodo ci stava donando. Adesso abbiamo un altro evento, il 5 maggio, dove si parla di pasta. Naturalmente si parlerà di pasta di grani antichi e di grani moderni. Quindi si avrà la possibilità di mettere le mani in pasta proprio con una semola macinata a pietra antica e con una semola macinata a pietra moderna. Quindi notare le differenze, quali sono le differenze sostanziali, perché una semola si riesce a lavorare meglio di un'altra. Quindi è un evento che promuove la biodiversità del nostro territorio. E ci riporta un po' indietro anche con la memoria a quei tempi in cui tutto andava più lentamente, si aveva anche il tempo per fare il pane, non solo, magari anche la pasta. Appunto, per cui è davvero prezioso il vostro momento di formazione. Io poi facevo una piccola considerazione, veramente Salvatore, anche da un po' di tempo, perché stiamo incontrando tanti giovani che come te stanno riscoprendo la terra, stanno riscoprendo la coltivazione in una maniera nuova. Quando eravamo forse un po' più piccoli, perché sembra che siamo anche quasi coetani, magari a scuola si diceva, vedi quelli là, due braccia rubate all'agricoltura, per dire non c'è abbastanza cervello per stare qua a scuola. Invece stiamo notando con grande piacere che adesso possiamo dire forse il contrario, magari a qualcuno che lavora in un'azienda, vedi il tuo cervello è un cervello rubato all'agricoltura, perché ormai si mette in moto veramente tanto per quanto riguarda sia applicazioni scientifiche, ma anche la ricchezza degli eventi che tu hai detto, di idee, di una grande bellezza e profondità spirituale. Assolutamente, infatti la terra, diciamo, c'è stato un periodo forse dopo gli anni 70-80, che poi è stato sinonimo anche un po' marginale, ecco. Adesso ce ne siamo un po' riappropriati, anche con, passatemi il termine, con un po' di arroganza, perché? Perché poi abbiamo portato comunque le nostre esperienze all'interno, abbiamo seminato le nostre esperienze in questa terra, e quindi poi stiamo vedendo dei frutti. Fortunatamente c'è tanta gente che crede, ci viene a trovare, ma che conosciamo anche altri agricoltori, altre realtà, dove si promuove proprio questa filosofia di vita, perché poi giustamente come ha detto Tony, i ritmi lenti, il saper attendere, il saper aspettare, era nella nostra cultura, e quindi ci dobbiamo riappropriare di quel tempo che ci dona anche, ecco, del tempo libero, lavorare per avere più tempo libero, il tempo conviviale, l'agricoltura è, diciamo, i lavori, lavorando in stretta relazione e in un concetto di comunità, sicuramente il tempo libero è il guadagno più bello. È vero, hai perfettamente ragione Salvatore. Noi siamo arrivati ai titoli di coda, è stato bellissimo chiacchierare con te, e dicci dove possiamo e come possiamo seguire il vostro progetto, anche sui social, magari, se c'è un sito internet di riferimento. Assolutamente, allora Solco Garganico, sia su Instagram che su Facebook, e sulla nostra pagina di internet www.solcogarganico.com Molto bene, così possiamo restare connessi anche dopo che ci saluteremo, in realtà questo momento è arrivato fra Italo, per cui, Salvatore, complimenti davvero per il vostro progetto e buon lavoro. Grazie Salvatore, buon lavoro. Speriamo di risentirci presto per scoprire come prosegue il vostro lavoro. La giornata su Padre Pio TV va avanti, vi lasciamo alla Santa Messa e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. A lunedì prossimo. La giornata su Padre Pio TV va avanti, vi lasciamo alla prossima.